Attimi di paura a Castiglion-Fibocchi dove una coppia di anziani è stata allegata, imbavagliata e minacciata da tre malviventi. Nelle mire dei banditi l'abitazione di un orafo Giuseppe Scorteci di 77 anni e della moglie una settantenne. I malviventi hanno atteso la coppia all'ingresso della loro villetta, erano circa le 19.30 di lunedì sera. I due stavano rientrando in casa quando dal buio sarebbe sbucata un'auto di colore scuro. Una volta aperto il cancello automatico, i tre banditi armati si sarebbero prima intrufolati all'interno della proprietà e poi avrebbero intimato i proprietari di aprire la porta dell'abitazione. Un colpo studiato nei minibidettagli, tre malviventi avevano il volto celato dietro un passamontagna, indossavano guanti e calzari. I due anziani una volta all'interno dell'abitazione sono stati legati con dello scotch ed imbavagliati. I malviventi a quel punto si sono aggirati per l'abitazione portando via quattro orologi ed alcuni gioielli. Un colpo messo a segno in una manciata di minuti, i banditi si sono dati alla fuga senza toccare la cassaforte. Mi ha chiamato e mi ha detto che sono 4 e 8, mi ha detto che è più tardi perché devi calabinare perché è successo così. Io dopo non so altro. A dare l'allarme dopo la fuga dei malviventi, la coppia di anziani una volta che si è riuscita a liberare attorno alle 20.30 sul posto i carabinieri di San Giovanni Valdarno e del nucleo operativo di Arezzo che stanno conducendo le indagini. L'abitazione non ha telecamere di videosorveglianza. Gli inquirenti confidano nella possibilità di rintracciare l'automobile utilizzata dai malviventi visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza di Castiglion Fibu e delle cittadine limitrofe. La coppia circa tre anni fa era stata vittima di un'altra rapina per la quale furono arrestate due persone residenti in Valdarno.